Ciao Fabio, ciao Stefano, ciao Claudio, ciao Deb, ciao a tutti. Sono Marco Giosiotti, ci conosciamo ormai da 4 anni, da Francoforto 2019, l'inizio ingresso nella famiglia di Rocky Mill e in questi anni abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo fatto concerti, eventi, reunion, giri in moto, aperitivi, insomma penso che ci siamo conosciuti abbastanza bene, io vi rappro a tutti gli amici di questo, vi ringrazio molto, faccio questo breve e conciso video per candidarmi come aiutoguro, perché io da Rocky Mill in realtà è vincito tanto, vorrei restituire, vorrei fare la mia parte, spero di arrivare in un stato di essere una persona seria, come meno una persona che prende molto seriamente la parte musicale e prende molto seriamente quello che è l'impegno di Rocky Mill, cosa vuol dire appartenere a questo, a questa comunità, cosa vuol dire impegnarsi a mettere serietà per fare il miglior show possibile e oltre a questo il prossimo incontro, il prossimo sarà l'ottavo evento che faccio insieme a voi e dunque ho visto, ho fatto tanto quell'esperienza, ho visto le cose che non succedono, ho visto come si possono aiutare le altre persone, da spiegare che l'attacco in modo sessioni e le avanti non imbattere piuttosto che abbassare i volumi, i bassi degli ampli o arrivare col cacciavite perché c'è staccata la vita di turno e le chitarre cominciano a cadere, insomma, o le viti rotte di turno, sono cose che non ho visto insieme, aggiungo oltre a questo che io di lavoro faccio le team manager per più di 5 anni, dunque, diciamo che confrontarmi con altre persone, gestire un tema, eccetera, eccetera, rientra anche nelle mie capacità professionali, anche se non mi vedete in giocca e cravatta oggi perché fa un caldo della stanza, ma questo effettivamente è il mio lavoro. So che Roma sarà un incontro speciale, perché? Perché ci sarà tanta vecchia guardia, anche se, vuol dire, ci sono dei nuovi e tra gruppo Facebook, Whatsapp, messaggi diretti, stanno arrivando, una quantità di domande pazzesca, penso non solo a me, ma penso a tutti, in ogni caso, in mezzo di una terza, ma sarò un incontro che saranno molta vecchia guardia, vuol dire persone comunque che me conoscete, che sono capaci professionalmente, ottimi musicisti, che conoscono ogni virgola di cosa vuol dire, sono anche mille, dunque, la vostra scelta, non sarà facile, io vi posso garantire che se sarò scelto, prendo una cosa con estrema serietà e con uno spirito buonamente collaborativo, uno spirito di cercare di aiutare gli altri, a prescindere da qualsiasi sia la vostra decisione, ragazzi, buona giornata, studiate anche voi le canzoni e ci vediamo Roma, ciao!